bravo ce la facciamo easy l'ho tolto oh armi leggendari mi sa qua da nel centro 4.000 leggendari eh ma sa santo un'arma c'è la zooka leggendaria ajo è bravito scappare che mi stanno distruggendo ho preso due armi allora cosa vuole a zucca leggendaria l'antra di leggendario scarreti Vado a fattoria finiti chi ha con la mia zio e se trovi si vede in safe ok ho trovato la mia zetta 41 li lancio una granatina oddio si oh guarda c'ho qualcosa di migliore di aspetta ti do il cosa ti do lo scarto da te lo scarico knica le basi i mi se aspetta vado a prenderci il dino mi prendo i miei celdini che la preso lo scar vero l'ho preso aspetti ti do delle bande aspetta no ti do delle bande vieni vieni qui ti do le bande la genge ecco rilascio faccio così bello questo ehi vabbè ce ne ho facciamo di gialle facciamo di gialle GENGE ce l'hai munici in lanza razzi? si lo puo dare i need col mio una cosa lo vorrei si un tattico leggendario eh si mi prendo quello epico tanto passi è qui da me è giusto ho preso un po' di ho preso un po' di 15 band i GENGE oh li vedi? oh li ha sclerato questi qui oh mi hanno distrutto grande GENGE GENGE I need GENGE 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 io ho killato uno eh no eh no perchè no perchè io adesso forse prima di Natale mi prendo il joystick no il joystick pro almeno così gioco meglio no attenso la playstation e questo qui me la prenderei non so se la non so non so se lasciare le GENGE per il P90 spam però no ma io le GENGE rifugni c'è una cassa va c'era un zombie è uscito dal nascondiglio ok 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 guarda guarda grande l'altro su questa montagna qui 35 70 killato ok 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 prendo queste munizioni ma dove mi serve munizioni eh no te l'ho lasciato a te ok 80 70 1 grande l'altro qui e l'altro ho il fight finale win sono un zizzicchino quanti kill hai? 6 dietro 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 grande uuuh ho completato anch'io una missione che buona essere ritorno nella lobby che mi sa che sono salito di un altro livello di sicuro di un livello si è salito grande uuuh si è salito per due livelli il prossimo livello il prossimo livello all'ula up la pista giornale niente che la pista giornale e anti dottor lo zaino uuuh niente male però io voglio andare ancora una volta sconfitti del boss almeno c'è eh hai dimmessa la modernità? no la modernità dura da sei giorni no io lo voglio fare perchè così sblocco uno spray bellissimo aspetta fammi da un attimo città fantasma non è bravo vedo un attimo una missione cerca un forse ora ok adesso andiamo a fattoria frenetica no ci ha trovato ci ha trovato almeno te lo fai anche tu ci ha trovato la cassa abbiamo fattoria frenetica ci ha trovato anche da un'altra parte ci ha trovato anche da un'altra parte si in una città ci ha trovato ci va dopo tanto dove ci ha trovato i città perché quella città lo ho già fatto anche io almeno te lo fai sia te che io e invece se no ha fatto riscaldi Forse so che città è O è Borgo Bislacco Corso Commercio O Parco Pacifico Secondo me è una di queste città Lo sa Sapevo che è a Corso Commercio Corso Commercio è mia seconda Sì A Corso Commercio è mia seconda città preferita Sì La prima è Forse che i fumaioli Che è dove è stato fatto A fare la mia prima win Scurato Questa skin Che cosa se è un maschio o una donna Un maschio Aspetta Ecco così No ma questa canzone è troppo figa Faccio una screenshot al polmino Vai Buttiamoci O bro A Corso Commercio Dove devo andare Sì A Corso Commercio A Corso Commercio E' come l'isoletta Se li vai sopra è come l'isoletta E' identico Ho detto ho trovato dei cildini Eh sì Eh sì Prima casa Sì Ah io l'ho già aperta la cesta Oh bro Se vuoi ti posso dare Una cildina Una cildina ti posso dare Boh Ah no Praticamente finchè non finisce Finchè non finisce la partita Non li dà Questa è un po' una cosa brutta Lo vuoi non il cildino? Non ha cildino? Sì Io te lo porto Non hai bisogno di un cildino No Serve per Per quel pisello Per lì Ho questo E' chi l'ha? Ti do il cildino Eccolo qui E' qui Aspetta che qui c'è una cassa Ho capito dove sto Aspetta Ti lascio un attimo Perché c'è una cassa che Una scossa Dove cacchio? Ti porto un cildino Ah mi stai nella casa di prima C'è C'è un bot Quello dove ho deciso Con il bot Dove sta l'oggetto? Dove sta? Mi pia di sopra Mi pia di... Accurato mi sei Ma dove sta con l'oggetto? Ah non c'è più lo spot Ah eccolo Provato Aspetta di portare lì i cildini Perché sono lì? Che casa dove ci sono cinque porte? Vieni 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 Ti do due cildini Questo è il pisello Che è sempre di ferro Poi andremo in safe Sai? Sì Intanto ci abbiamo la corrente A nostro favore Sai? Dici? Sì Ed è mezzo capitato C'è già la corrente A nostro favore Farore? E più avanti inizia Anche una barca Guarda non so che pure l'ho visto in tac Ci guarda le sentate a verde Con il ciclo Vabbè io non ho incontrato a nessuno Ma di tac Andiamo Sì Sì Più ora Sì È perché non avevo il wifi L'ho avrò presa sette mesi fa Così un anno Ce l'ho L'ho provato a dieci anni Però non avevo wifi infinito Quindi è per questo Non poter giocare Ops Ho chiudato con la sotto Di lavoro di squadra Non come Luca Quando gli dici Perché non mi ha lasciato? Perché? Perché mi stiamo E' un'altra persona E' un'altra persona Thanks Guarda mi prendo pure lo spara band No no c'è lo spara band C'è lì lo spara band Faccio questi due cilidini No obvious Si fa mai La grafica fingertips squisci i suoi corpi che buona solo sparabando ora so anche lì quando colpendo col piccolo lì mi ha tirato un lag di quelli sono andato per un attimo a 5 tbs va bene un po di meno allora perché non ho potuto chiedere l'altro no no ti giuro che questa cosa dello sparabando mi fa veramente vomitare se tu vedessi il cerchio come si fa vomitare una vagina che chiusa ora vieni qui vieni qui vieni qui vieni qui vieni qui vieni qui ti faccio vedere se ti faccio vedere quanto fa scrivo una pagina guarda guarda qui dietro di te aspetta guarda che scrivo fa uno schifo a una vadina dobbiamo andare in safe ah no c'è un battery scusa c'è un bot prendi questi raggi ma adesso ho sentito ho sentito adesso che si sta ricaricando lo sparabando io andrei in safe no no adesso ho perso a fare un colpo vedi fanno un cerchio lo sparabando sta caricando il doppio più veloce di prima o però c'è una barca prendiamola ma cinque secondi bro bro si fa riva tanto quando stessa la barca si prese in un portale a 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 satana non voglio più trovare zombie gesù santo che mi vado a potenziare il mio tac in un tac epico Matteo senti eh mi sto andando a potenziare un'arma bella il tattico ah c'è su santo c'è su lo spastico ce l'è un nonno? no non ce l'ho però vi c'è una persona c'è una barca no vi c'è una persona c'è un team lì dai c'è un team grande che che uuuu guai guarda guarda che secco bello quindi chi l'hai? no è 11 però non ce la facciamo nessuno non ce la facciamo dove è la barca? non andare in barca dove era safe? dio lì si gira il personaggio vera eh non riuscivo andare a far dritto eh non le può fare eh no perché ci sono anch'io 14 kill dobbiamo fare 6 kill però le 20 bombe servono 6 kill no eh però lo voglio fare solo io ci sono solo 6 nemici e potrebbe 17 kill per cui niente abbandono le 20 bombe potremmo fare potremmo fare potremmo fare le unite non lo sono precisi i nostri quanti aiuti 11 dobbiamo fare 6 kill ci siamo eh precisi perché noi siamo due e siamo morto cacchio c'è c'è un team in barca si è buttato niente si è buttato al dirupo non fa niente no si sono buttati al dirupo quindi sono morti non credo perché quando si imbarca non mi puoi prendere il danno è caduto dove c'è il dirupo? eh dalla cascata oh io però c'ho un posto da scoprire ancora e che ne so l'ho visto per un secondo e posso scomparsi io vado a scoprire questo posto che non l'ho ancora scoperto c'ho ancora una zona grigina qui che mi dà molto fastidio oh c'è il droppo viacini ma te vieni pochi ci si va con gli ergi non c'era anche così ma il posto ha scoperto li prendiamo gli ergi dopo li lasciamo ah fai te No, c'era lì il droppino bellino. Oh, c'è un tattico epico qui. Se ne ha bisogno, venghilo. Oh, qui ci sta un team. 18. No, mi sto chiedendo. Eh, mi ha killato. Eh, mi ha spammato. Presto, corri, bro! Che sta caricando? Sta caricando, sta caricando. Ah, l'ha vuittato. L'ha sfiorato. Adesso sta fermo, son abbo. Guarda che sta fermo ora. Eh, quando l'ho killato io ho fatto il pro-gamer. Può prendermi una mia scheda. Può prendermi una mia scheda, il mio sopivorizio. Guarda che cacchi di armi aveva. Proia Andresescu. Proia Andresescu. Tocchi di armi aveva. rossa a saltare non sembra un bot ciao youtube